E' una bella sensazione perché la squadra, tutti i ragazzi, quello che ho visto dal primo allenamento è un buon gruppo, un nuovo palazzetto, la città credo, sembra una città molto accogliente, molto bella, è una bella l'ora per il prossimo allenamento, di iniziare la prima partita, insomma questa è una avventura con questa nuova squadra. La sensazione è che sei venuto qua con grande voglia perché hai proprio voluto questa esperienza a Palermo e poi sei visto anche Aquila in queste settimane, in questo campionato. Sì, ho voluto questa scelta perché ho visto il progetto della società, della squadra, ho visto una squadra molto buona e quindi voglio dare una mano a questa squadra, portarla al massimo per le sue possibilità. Ultimamente ho seguito le partite, i giocatori, ho seguito un po', anche perché sono due abruzzesi in girone, quindi le mie caratteristiche sono giocare il pick and roll e cercare di far segnare, mettere il ritmo ai tiratori e cercare di far segnare gli altri, insomma. Domanda di Rito, questi capelli, penso che te l'abbiamo fatta tutti, diciamo, nelle tue precedenti esperienze, una scelta motivata, diciamo, come? Cioè, diciamo, tutto quello di incidere intorno al reggae, di incidere intorno alla pop Marley, quindi ho deciso di farli crescere abbastanza.